Una e due Io devo solamente capire meglio la storia del cappello e della pistola cioè perché è stata regalata da Delon al regista Tom No, la leggenda che racconta Delon è che dopo aver rifiutato perché non si sentiva di rimettersi nei panni di Costello ha però voluto incontrare Johnny Halliday e gli ha simbolicamente regalato la pistola di Frank Costello o Vincent Costello e il cappello che aveva usato nel film di Jean-Pierre Medina però questa era la leggenda che però non conosce neanche Johnny To Forse no Telefoniamo a Johnny Halliday No, scusi, altre due cose Se quindi nel cambio dell'interprete lui ha adattato, ha cambiato un po' la sceneggiatura oppure no e la conversione cioè c'è una conversione all'interno del film Cosa vuol dire la conversione? C'è Ah, la conversione regiosa si converte insomma, c'è tre giorni prega Se lui ha cambiato qualcosa nel film con l'arrivo di Johnny Halliday Cosa vuol dire la conversione del film con l'arrivo di Johnny Halliday Cosa vuol dire la conversione del film con l'arrivo di Johnny Halliday Cosa vuol dire la conversione del film con l'arrivo di Johnny Halliday Cosa vuol dire la conversione Questa è una città di 98% o 95% Non è possibile Non è possibile Anche la fine non ha cambiato Praticamente 95% della scennatura Non aveva cambiato È rimasto quasi sempre uguale Ma la domanda era Non perché を pregare la fine del film Ma che next Molti lo chiede Perché la qu崇ل l'chair Ca che fa a Mother Noi hai visto donante film e il resto... e quindi... ... 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 si è... come i cinesi quando hanno bisogno... cioè quando hanno delle problemi quando hanno tempo quando hanno problemi che non riescono a riscaldare, allora magari pregano e chiedere l'aiuto.